Grazie per la fiducia. Allora, penso che sia chiaro a tutti dopo questi primi interventi durante la mattinata il fatto che siamo entrati nell'era dell'artificial intelligence. Che cosa vuol dire nella pratica? Vuol dire che alcune aziende, direi molte aziende, questa è la nostra esperienza, hanno iniziato a introdurre questa tecnologia all'interno delle applicazioni esistenti per aumentarne il valore. Oltre alle applicazioni esistenti, quello che ci aspettiamo nel prossimo futuro è che tutte le applicazioni intelligenti che verranno create non soltanto conterranno questa tecnologia, ma addirittura saranno pensate e progettate dall'inizio per poter sfruttare al massimo questa tecnologia. Come dicevo, noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con tante aziende in questi ultimi due anni che hanno già implementato l'artificial intelligence, alcuni nomi li avete visti. Anche gli analisti sono d'accordo con noi, intervistando queste aziende, che il ritorno degli investimenti per chi adotta l'artificial intelligence è notevole. Vediamo alcuni esempi di chi ha già trasformato le proprie applicazioni con questa tecnologia. Partiamo da PwC, che sapete è una grande azienda di consulenza, che ha creato un assistente al proprio interno, distribuito a tutti i dipendenti, per poter accedere in maniera molto più semplice alle norme knowledge base aziendali. I dipendenti che hanno iniziato a usare questo chatbot hanno avuto diversi benefici, tra cui essere più efficaci, ma anche il risparmio del tempo. L'88% dei dipendenti di PwC dichiaravano di aver anche risparmiato del tempo grazie a questa tecnologia. Poi passiamo a Swico, che invece è un'azienda leader nel mondo della progettazione e dell'architettura. Loro hanno creato un assistente specifico per i progettisti, ancora una volta per semplificare il loro lavoro e il 50% adesso della totale popolazione di dipendenti di Swico ha iniziato a sfruttare questa tecnologia. Freshworks invece è un'azienda leader nel fornire soluzioni dedicate e specifiche per il customer care. Loro non soltanto hanno usato questa tecnologia per creare delle applicazioni intelligenti di tipo assistente, ma hanno anche già iniziato a implementare il concetto di agente. Questo ha fatto sì che nelle loro soluzioni integrate con questa tecnologia sono riusciti ad ottenere un più 60% della risoluzione dei ticket del supporto che hanno avuto. Ultimo esempio di questa serie di esempi invece è Vodafone. Vodafone è riuscita a crescere di più 20 punti nel Net Promoter Score che come sapete è il KPI principale per valutare il grado di soddisfazione dei clienti semplicemente perché Atobi, il loro assistente digitale aperto ai loro clienti, creato diversi anni fa con tecnologia di artificial intelligence tradizionale, hanno aggiunto invece le funzionalità derivanti dall'AI generativa. Vi dicevamo, l'AI sta cambiando il mondo, ha già iniziato a cambiare il mondo. Un esempio di cambiamento, veniva citato anche da Satya Nadella questa mattina nel suo intervento, è il fatto che la tecnologia, i sistemi hanno iniziato a imparare e a conoscere la nostra lingua, quindi possiamo comunicare con i sistemi digitali usando il nostro linguaggio naturale. Questo significa che quando si adotta questa tecnologia all'interno dell'azienda è come adottare un nuovo collega. Bene, su questo concetto vorrei che venisse raccontato direttamente da un'azienda italiana, in questo caso Alpitour, che ha adottato la tecnologia e ci raccontano come hanno accolto questo nuovo collega. Il Travel Editor è una sorta di filtro tra altri uffici e il nostro ufficio operativo, quindi ad esempio noi gli diamo supporto per quanto riguarda delle informazioni di prodotto oppure se hanno bisogno di chiedere qualcosa al revenue. Cerchiamo di dargli quante più informazioni possibile e facilitargli un po' il lavoro. Il Travel Editor sono nove persone, nove ragazze che lavorano in team tutti i giorni, quindi si è venuta a creare una grande famiglia. Dimmi in quali hotel a Charmo c'è l'Aquapark, quindi tiri fuori i cataloghi di tutti i brand e spulci scheda per scheda. Questa risposta, se è così specifica, chiedo supporto all'ufficio prodotto. Sono stata emozionatissima quando ho digitato le prime parole, perché un conto è quando tu utilizzi una chat di un'altra azienda, un conto è quando utilizzi una chat che stai facendo poco poco tua. È stata un'emozione poterlo utilizzare per il mio lavoro. Io la chiamo il mio bambino. Il giorno in cui ha la domanda chi sei, ha risposto, sono un Travel Editor del gruppo Alpitour, possono dirlo ai miei colleghi in ufficio, io ho i lacrimoni. Dietro l'intelligenza artificiale c'è il lavoro di tante persone, tante teste, tanti pensieri diversi e tanta anche cooperazione. Il mercato vuole una risposta tempestiva, quindi se si sviluppa questa collaborazione, questa sinergia, si riesce ad andare a smarcare eventuali dubbi ed essere anche più celeri nelle risposte e acquisire prima il cliente. In davvero pochissimi secondi la macchina tira fuori migliaia di informazioni. Alpi GPT a volte risulta anche simpatico e gentile nelle risposte che dà. È una figata, non so se si può dire. Fidatevi di Alpi GPT, perché è un collega. Allora, io farei un bel applauso a queste fantastiche donne e a Alpidur che ha avuto il coraggio di fare questa cosa. Michael ci dice che, con lei tutti i maggiori analisti del mercato, che queste sono le aree dove dobbiamo investire per avere il maggior ritorno. All'interno dell'azienda, nella definizione dei processi di business e nel migliorare il modo in cui le nostre persone lavorano, come queste di Alpidur appunto, o verso l'esterno per migliorare l'esperienza del cliente e per innovare più velocemente. Adesso vediamo un po', in una carrellata, queste quattro aree. In particolare, questa nuova capacità di comprendere i dati critici dell'azienda e la produttività che aumenta, ci permette di ridefinire in qualche maniera questi nuovi processi. E quali sono gli elementi sui quali ci possiamo basare per fare questa ridefinizione? Uno, che le attività che svolgiamo possono essere svolte in maniera più veloce. Questo riduce i cicli di esecuzione dei processi e quindi li possiamo riorganizzare in modo diverso. La capacità di avere dei modelli che interpretano dei dati non strutturati, che è quello di cui stiamo parlando, fa sì che possiamo ridurre gli error rate all'interno dei processi. Non c'è più bisogno di compilare delle informazioni. Possiamo chiedere a questi modelli di estrarli. E li possono estrarre dai documenti testuali, dalle immagini, dall'audio, dal video, con un'accuratezza veramente molto elevata. E qui però non parliamo sempre e solo di Genative AI. L'AI tradizionale ci ha accompagnato per tanti anni. Adesso, grazie alla Genative AI, sta tornando anche all'interno delle applicazioni. E grazie a meccanismi, ad esempio, di prediction, possiamo ridurre il fault dei nostri sistemi, possiamo ottimizzare i cicli di utilizzo delle macchine e quindi, da questo punto di vista, ottimizzare anche l'utilizzo energetico. E questa è la parte della sostenibilità. Questo, ad esempio, è quello che ha fatto Sapiens. È un nostro partner israeliano, in questo caso, che sviluppa piattaforme per le assicurazioni. E in particolare, l'utilizzo delle AI generative nella comprensione dei documenti a corredo delle nostre richieste, i claim, o nell'analisi se queste richieste sono più o meno eritiere, fanno sì che loro hanno migliorato tutti gli indici di valutazione per quanto riguarda la fraud detection e l'error rate. E queste piattaforme, loro le sviluppano per loro stessi e per i loro clienti. E con dei miglioramenti, tutta la piattaforma è bastata su Azure e quindi pagano solo che le utilizzano, gestiscono i picchi in maniera flessibile e hanno una serie di vantaggi. Questa cosa si può applicare nelle altre aree e chiedo Andrea magari di fare un drill down per quello che riguarda invece l'esperienza degli dipendenti. Sì, allora, oggi abbiamo visto tanti esempi di utilizzo di questa tecnologia per migliorare l'esperienza dei propri dipendenti e dei colleghi. Sappiamo come questa tecnologia, questo viene, diciamo così, testimoniato direttamente dalle aziende che l'hanno adottato, aiuti sicuramente ad essere più efficaci nelle proprie attività. Questo significa anche ridurre il tempo necessario per implementare determinati task. Io penso che l'elemento, uno degli elementi più importanti e quello che in qualche modo mi ha stupito perché per me inizialmente, prima che iniziassimo questo viaggio, non era così scontato, è la soddisfazione dei dipendenti che utilizzano questa tecnologia. Testimonianza diretta di chi la usa, mi dice, Andrea, magari io comunque continuo a lavorare per la stessa quantità di tempo nella giornata. Ovviamente adesso riesco a fare più task, più attività rispetto prima, ma l'aspetto più importante è che al termine della giornata, quando la sera torno a casa, torno a casa più soddisfatto perché mi accorgo di aver lavorato durante la giornata nelle attività, nei task a più alto valore aggiunto, meno ripetitivi e quindi sono più soddisfatto e arrivo più contento a fine giornata. Scusate, un esempio qua è KPMG, che è un'altra azienda leader di consulenza, che ha usato questa tecnologia per rivedere al proprio interno per i dipendenti il proprio portale interno di ricerca della knowledge base, passando da una classica ricerca ad indici ad una ricerca invece vettoriale che usa anche l'AI generativa. Ha sfruttato in questo caso un nostro prodotto che è Cosmos DB, che è un database, che ha delle funzionalità che abbiamo implementato proprio per sfruttare al massimo questi modelli e hanno ottenuto come risultati la qualità della ricerca che è passata dal 50% al 91%. Vediamo invece, Mattia, adesso come questa tecnologia aiuta invece a rivedere l'esperienza verso i clienti. Allora, potrei andare uno per uno su questi attributi e invece riprendo il video di Alpitur che io ogni volta che vedo mi piace per un motivo diverso. C'è Sara Chiarotti, che è l'ultima signora che parla, che ci dice che queste tecnologie ci aiutano a chiarire eventuali dubbi, dare delle risposte più celeri e in ultima analisi a catturare prima il cliente. E lo dice lei e che secondo me rispecchiano perfettamente tutte queste caratteristiche. E se non l'avete mai usata, se avete fatto delle sperimentazioni, penso che sia facilissimo capire come tutte queste cose siano vere. Noi l'abbiamo sperimentato di prima mano e il caso che vogliamo parlare è Vodafone. Vodafone tanti anni fa ha cominciato con noi un percorso che è passato per Tobi, uno dei chatbot più grandi a livello industriale che sono stati realizzati perché poi Vodafone l'ha deployato su tutte le sue region. E siamo nella fase 2, quello che loro chiamano Super Tobi e poi hanno fatto un'altra cosa che si chiama Super Agent. Super Tobi è l'aumento del chatbot che c'era precedentemente con tutta questa motion di AI generativa e in particolare di OpenAI. Sono in grado di gestire 45 milioni di comunicazioni al mese su 13 paesi e 15 linguaggi differenti. Ma la cosa impressionante è che sono tostati dal 70 al 90% di risoluzioni dei casi alla prima chiamata. Chiunque gestisca un customer center sa che cosa vuol dire questo numero. È un risultato veramente impressionante e che si può ottenere quando si usano le tecnologie giuste con le persone giuste e nel modo corretto. Però per farvi toccare con mano che cosa può significare questo nuovo tipo di interazione vi facciamo vedere un piccolo video che penso riassume in maniera corretta l'utilizzo di tutte queste tecnologie. All right, let me ask the agent here. Hey Seth, how's it going? What can I help you with today? I am fantastic. I'm sorry, I'm in such a hurry. I'm going to go on an overnight camping hike where we're camping and all this. It's going to be dark, cold. Should I use these shoes? It's the mountains. It's probably going to be cold. Great, no worries. Let me take a look. Ah, those are the Trek Star Hiking Sandals. While they're fantastic for summer hikes and keeping your feet cool, they might not be the best choice for cold mountain conditions. Oh my goodness, okay, I'm sorry to interrupt you. Pick the best thing that I should use and can you just add it to my car? Just one product. No worries. Let's go with the Trek Ready Hawking Boots. They're durable, provide great ankle support, and most importantly, they'll keep your feet warm in the cold mountains. I'll add them to your cart now. Ready for checkout? I see that. Amazing. Muchísimas gracias. Espero que me vaya bien en el campamento. They nodded, Seth. Esfruta de tu campamento y mantente caliente con esas botas. Buena suerte y diviértete en los montañas. Ok, chiudiamo questa carrellata vedendo come questa tecnologia invece può essere utilizzata dalle aziende per innovare i propri prodotti e le proprie soluzioni. Qua penso che Microsoft stessa sia un esempio. Noi da due anni a questa parte abbiamo rilasciato tutta una serie di copilot che sono, se ci pensate, i nostri prodotti trasformati con il valore aggiunto che l'EI generativa può portare. Quando si trasformano i propri prodotti i propri servizi ovviamente si è molto, si è più competitivi sul mercato quindi si riesce a guadagnare market share, si riesce ad avere un ingaggio dei propri clienti migliorato ovviamente perché come avete visto da questa demo l'interazione che si possono avere con i sistemi digitali diventa assolutamente semplice e naturale per tutti e ovviamente si migliora anche il time to market nel rilascio dei prodotti avete visto come Microsoft adesso ha una cadenza di rilascio delle sue soluzioni molto più frequente rispetto al passato. Ma per non fare un esempio interno a Microsoft vi parlo di Mercedes-Benz Mercedes-Benz ha deciso di usare le nostre soluzioni basate sull'EI generativa per creare un'esperienza alla chat GPT all'interno dell'auto questo significa che non solo io posso interagire con l'auto in linguaggio naturale in maniera molto semplice per visualizzare piuttosto che impostare i dati classici di un veicolo ma posso parlare con l'automobile anche facendo domande complesse e ottenendo risposte per le quali ad esempio l'automobile deve connettersi a internet e trovare delle risposte quindi magari mentre guido per tornare a casa la sera posso chiedere e avere degli spunti su qualche idea di che cosa potrei mangiare e cucinarmi per la cena piuttosto che avere delle informazioni mentre mi muovo con la macchina per andare in un luogo di villeggiatura in un luogo turistico per avere invece delle informazioni rispetto al luogo che sto visitando adesso abbiamo visto tutta una serie di aziende che hanno già implementato questa tecnologia vediamo che cosa bisogna fare per creare delle applicazioni intelligenti ed estrarre il valore secondo noi ci sono sette elementi che sono indispensabili forse è meglio dirne sei più uno dove il più uno è l'elemento legato al responsible AI alla sicurezza alla data privacy ne abbiamo già parlato questa mattina ma è un concetto molto importante quello che voglio sottolineare qui è che noi come Microsoft abbiamo la responsabilità di creare una tecnologia utilizzando adottando dei principi etici mantenendo la sicurezza la data privacy dei nostri clienti però questo non basta si parla di catena di responsabilità le aziende che utilizzano queste tecnologie per trasformare i propri prodotti i propri servizi così come abbiamo visto loro stesse devono usare implementare questa tecnologia con i principi della responsible AI e mantenere la sicurezza e la data privacy dei loro clienti così come poi gli utenti finali che utilizzano questi servizi devono a loro volta sfruttare questi servizi in maniera responsabile quindi il messaggio qua si parla di catena di responsabilità non è soltanto compito di chi crea questa tecnologia e la metta a disposizione Mattia vado? si che elementi usiamo? allora senza entrare nel dettaglio però tecnicamente Microsoft ha sviluppato una piattaforma che è fondata sui principi di AI responsabile sulla privacy e sulla sicurezza su questi principi ma io vi ho costruito delle soluzioni per consentirvi da una parte di personalizzare i prodotti out of the box i co-pilot che avete visto stamattina in maniera semplice e intuitiva dall'altra se siete degli sviluppatori professionisti utilizzando servizi di applicazione dei dati dell'infrastruttura potete ottenere i risultati che potete in maniera dettagliata se siete quelli che oggi chiamano citizen developer oppure sviluppatori della domenica forse diremo noi avete degli strumenti low code e no code e l'obiettivo qui è chiarissimo voi dovete dire a qualcosa a un oggetto quello che volete il risultato che potete ottenere e poi sarà lui utilizzando questi servizi diciamo dietro le quinte integrandoli in maniera che a voi diciamo non interessa per farvi ottenere il vostro risultato quindi voi raccontate quello che volete e questi oggetti lo faranno ok avete visto degli esempi stamattina e queste cose si sviluppano sempre di più a farla da padrone in questo scenario sono ovviamente i modelli ok e da questo punto di vista il catalogo dei modelli che Microsoft mette a disposizione sono tantissimi modelli grandi piccoli quindi large small open source o proprietari e in esclusiva tutti i modelli di OpenAI e questo lo fa all'interno di un'infrastruttura enterprise quindi con tutte quelle caratteristiche di sicurezza e di affidabilità che possiamo garantire ovviamente abbracciare queste cose ci permette di essere più veloci nello sviluppo e questo ci consente di accelerare il rilascio delle applicazioni e consente ai nostri team di affrontare carichi di lavoro maggiori quindi questi sono tutti dei benefici che l'adozione di queste tecnologie può portare non è semplice muoversi all'interno di tutte queste novità o di questi aspetti tecnici e per questo Microsoft ha creato questa iniziativa che si chiama AI Lab è un posto dove possiamo confrontarci fare brainstorming sulle idee validare delle architetture tecniche è un posto dove troverete sempre un partner che vi assisterà e ci aiuterà nel portare avanti queste conversazioni vedete un link in quel link trovate tutte le informazioni di dettaglio e potete prenotare un appuntamento se volete ok e noi vi invitiamo a farlo perché è lì che abbiamo imparato tutte le cose che sappiamo ed è lì che ci piace essere insieme con voi ora perché tutte queste cose abbiano un senso però questa AI deve lavorare in un contesto il nostro contesto sui nostri dati e per farlo io invito sul palco Andrea Goyakovic e Pierluigi Croce con cui ho il piacere di lavorare tutti i giorni e che aiutano i nostri clienti a implementare in maniera corretta tutte queste tecnologie e lascio a loro la parola per parlarvi del mondo dei dati grazie mille grazie